buongiorno amici cari avete notato che quando cercate di comprare un biglietto aereo la prima volta dato uno sguardo e il prezzo è diciamo 100 euro la seconda volta stesso volo stessa stesso biglietto aereo costa di più la terza volta di più e così avanti questo è un modo intelligente delle compagnie aeree per farvi comprare il biglietto il più presto possibile però c'è un modo di non fare il prezzo del biglietto alzare come perché perché loro alzano i prezzi ho detto perché vogliono farvi comprare il biglietto e come lo sanno che voi guardate sempre i biglietti ci sono quelli cookies che si che voi che ci sono comunque perché loro seguono loro possono sapere quando voi navigate e come fare per farli non sapere e non capire adesso vi faccio vedere ecco qui sulla destra ci sono tre puntini in alto e qui c'è nuova finestra di navigazione in incognito e voilà la apriamo si è passato alla navigazione in incognito e certo qui scriviamo quello che vogliamo in questo caso io faccio chi vi con questa è la pagina dove io trovo i voli più economici per le destinazioni per i paesi dove voglio andare qui noi copriamo compriamo di solito i nostri biglietti aerei è tutto qui adesso posso navigare e loro non lo sanno e io avrò sempre il mio prezzo di di biglietto aereo quello che in realtà è allora il più basso perché non me lo alterano più ecco qua questa è la cosa spero di avervi aiutato un pochettino grazie per avermi seguito fino al prossimo video vi saluto auguro tutto il bene ciao ciao ciao